Sono molto felice di essere testimonial di Fondazione Fibrosi Cistica Onlus e è una causa che sposo insieme a tutti gli altri azzurri della Federazione Italiana di Atletica Leggera, perché ci sono tantissime analogie con lo sport, come il fatto di la passione che ci mettiamo ogni giorno, il fatto di non arrenderci mai, la resilienza e ho scoperto che lo sport è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei malati di fibrosi cistica, quindi sono onorata di sostenere questa causa.